Quando vi dico, fuori dal cinema, quando faccio le recensioni dei film animati, vi dico, ma questo film, sì, è per i bambini, ma è troppo scemo, perché il film animato dovrebbe prendere un po' tutte le fasce d'età. E' un discorso che voglio fare per Knuckles, serie su Paramount Plus che tratta le vicende di Knuckles, che è l'antagonista di Sonic nella nuova versione cinematografica, mezza live action e mezza animata, essendo che Sony, Knuckles e gli altri, e anche quella vulpina che non ricordo il nome, sono in animazione CGI nel formato live action. Quindi qua è una serie su Paramount, solo di sei episodi, su Knuckles e le sue vicende con Wade, ed è fatta benissimo. E per i bambini, certo, non ha la profondità di persone di Ingmar Berman e neanche della dolce vita di Fellini, ma ha un contenuto che si può esporre e dire che può emozionare e diverte tantissimo. E ha quel profumo di anni 90, per il trash, con un fondo comunque di sostanza, di storia. Quindi ve la consiglio sicuramente, ora spieghiamo in uno spoiler e poi in spoiler il perché sia così ben fatta, secondo me, a mio parere, visto che dura in totale tre ore. Siamo togliendo i titoli di testa e di coda. Salve, sono Alcain Hammer, benvenuti sul mio canale, abbonatevi dai, 1350 iscritti, ci manca molto poco e me lo merito perché porto più contenuti degli altri, più velocemente e anche a volte di migliore qualità. Perché tratto temi interessanti, quindi iscrivetevi e abbonatevi se vi va col tasto qua sotto, ultima uscita al cinema, Challengers e tutte le altre, va bene? Mercoledì arriva anche quella di Garfield, il nuovo è anche Sei Fratelli. E anche vedrò il documentario di Wenders, visto che domani ho un buco di due ore. Ve ne parlerò? Sì, forse sì. Allora, incominciamo subito. Nacco al serie 2024 su Paramount Plus, prodotta da loro, credo sì, spin-off del film Sonic 2. Li ho recensiti entrambi sul canale. Molto brevemente cosa penso di questi due film, anche ci colleghiamo con il collegamento. Il primo episodio non è spoiler, giusto per ricordare ai nuovi di che stiamo parlando, compaiono nei primi minuti Sonic e gli altri. E quindi viene anche rintrodotto il personaggio di Wade, che era l'amico poliziotto della coppia, il protagonista. C'è Sonic e viene messo al centro subito il problema della serie. Cioè, Knuckles, dopo che ha sconfitto, crede di aver sconfitto Robotnik, visto che ci sarà il terzo Sonic proprio quest'anno, quindi ottimo collegamento, vuole lottare, lui è un guerriero, come detto viene dal suo mondo, non ricordo il nome, Echidna, grande guerriero Echidna, che attraversa lo spazio, il multiverso, diciamo, quest'anello che si è aperto, e lui è un combattente. Quindi non sa che fare, si annoia perché lì non c'è nessuno da combattere. Quindi, essenzialmente avrà una missione, cioè quello di rendere vincente, non un lose, Wade. No, e ora poi, vediamo il perché. Quindi, il collegamento è questo. Nel primo episodio compare Sonic e compaiono gli altri per poco, dieci minuti, poi scompaiono, ecco, essenzialmente. Quindi questo è il collegamento, se vogliamo. Ah, Knuckles è doppietto da Edie Selva, bravissimo, ora poi ci arriviamo, lo visse a lingua originale su Paramount, di che parla la storia del road movie fra Knuckles, quindi la sana coppia, Knuckles e Wade. Questa simpatica gente è sfigato che si vede che il suo problema e la sua ossessione è diventare un gioco di bullying. Adoro il bullying, quindi un punto in più per questa serie. E per farlo Knuckles deve instillare in Wade lo spirito del vincente, del guerriero. E questo road movie lo porterà a svilupparsi. E qual è subito il contrasto vincente fra la voce baritonale da guerriero di Knuckles, con il suo modo di parlare aulico, e l'essere di Wade, come dire, innocuo, non da vincente, che funziona molto bene. Perché Wade accetta i consigli di Knuckles, ma fa un po' di testa sua. Quindi è un po' una parodia, se vogliamo, perché Wade è il tipo la parodia, ma che lo fa per le giuste motivazioni. E Knuckles è sempre quell'uomo tutto di un pezzo, che però durante il viaggio diventa ed entra in contatto anche con il mondo. Perché nella prima episodio Sonic dice, ma tu devi abituarti, questa è la tua casa. E lui non capisce, infatti c'è questo avvenimento che spingerà Knuckles proprio a addestare Wade. E questo viaggio serve a entrare per sviluppare poi i vari personaggi che si incontrano durante il tragitto. Ed è divertente da morire, perché c'è questo spirito, anni 90, un po' di trash, che però è costruttivo per un discorso che ha sempre lo stesso, di famiglia, di affetti, chiedere in se stessi, bla bla bla. Ma lo fa in maniera divertente, dove non si ci prende sul serio. E questa è la cosa fondamentale, ci sono momenti altissimi. Ovviamente il finale si va a parare sul bullying, perché finalmente Wade avrà la sua opportunità. Conosciamo la famiglia di Wade, quindi la mamma, la sorella e il padre. Abbiamo diversi incontri con dei cattivi che vogliono rapire Knuckles. Quindi non è solo statica, ma anche scene action, e sono ben girate, per quanto sia il target di riferimento. Quindi nel complesso posso dire che è una serie super consigliata a tante canzoni, ma degli anni 90. Ah, ho visto da poco Scarface, e c'è Push It to the Limit, no? Che fa ridere perché mi sta in una certa situazione di bullying che mi ha fatto impazzire. Quindi è un film molto divertente, ho riso dall'inizio alla fine, perché funziona. Perché si prende sul serio quel poco che basta per rendere non demenziale tutta la baracca. Però fa molto, molto ridere. Con Knuckles, che è una superstar incredibile, funziona dannatamente bene. Va bene? Andiamo in spoiler. Comunque, questo super consiglio non è una serie fantastica, assordinaria, ma divertente. Dura poco. Secondo me dovreste guardarla. Proprio istantaneamente. Oggi stesso, in due giorni, la vedete. Un'ora e mezza, un giorno. E l'altra ora e mezza, un giorno successivo. Andiamo in spoiler per dire giusto due cose. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio anche il colore. Blu. Eccoci, Knuckles spoiler. Voglio subito dire che l'idea del bullying è geniale. Questa serie rappresenta il sogno americano del vincere. E si parte con una scena bellissima dove il nostro Wade viene preso in giro dalla bambina, che poi sarà il suo secondo, diciamo, nel torneo finale. Dice, ah, tu sbaglierai, sbaglierai. Quindi mi fa molto, molto ridere. E c'è questo Knuckles che, in effetti, il suo scopo, dato da questo Yoda fake, gli dice, tu devi aiutare, lui è il nuovo guerriero. E c'è, quindi fa molto, molto ridere. La parte con il motociclista, il suo vecchio amico, mi ha steso. Mi ha steso, è fantastico. E ogni tanto sono delle cose un po' assurde. Ma tutto sommato funziona. E la famiglia, l'inserimento della famiglia è geniale. Perché riesce a rendere la storia vera, naturale. Non è che incontra i pirati dello spazio. No, incontra la sua famiglia. Il suo nemico è colui che era, il suo punto di riferimento, ha fatto la sua ossessione, cioè il padre interpretato benissimo. Vediamo se. Kerry Helwes. Helwes, scritto. Si dica Helwes, credo. Che ha fatto è che l'ho visto da un sacco di parti. Rebel Moon? Ah, forse no. Ha fatto anche il secondo Rebel Moon. Ha fatto anche l'ultimo di Guy Ritch. Mission Impossible Dead Reckoning. Non me lo ricordo. Comunque ha una faccia molto, molto peculiare, questo narcisista che fa morire da ride. Anche se è prevedibile da un certo punto di vista quello che succede, però è molto, molto divertente da parte del bullying, con quel montaggio incredibile, con lo split screen, con la canzone. Ha fatto ridere, insomma. Funziona. Il villain vero è questo tale che ha commissionato il lavoro ai due sfigatoni, insomma, a sorta di tema Rocket. È una sorta di tizio di Iron Man 2, di Mickey Rourke, una roba del genere. Funziona. Tutto funziona. Non posso dire che sia una brutta serie. Anzi, mi sono divertito. Dura anche il giusto. Si poteva accorciare forse di 20 minuti, no? Un episodio in meno. Tranquillamente si poteva fare, secondo me. Però è breve. È breve. Quindi è super consigliato. Perché arrivati in fondo. A voi è piaciuta? Non è piaciuta? Fatelo sapere. Che cosa... Quali sono i punti più divertenti? Oppure mi ha fatto schifo? Può anche essere. Quindi iscrivetevi. Puntiamo i 1350 iscritti. E supportatemi come vi va. Come potete. Ok? Abbonatevi col tasto qua sotto. Due caffè al mese. Ciao.